Amici ma soprattutto amiche, benvenuti e bentornati in questo nuovo fantastico video e titolo Bus Simulator 21, io dal grande appassionato dei simulatori non potevo non provarlo. Allora, vediamo di cosa si tratta. Vivi la quotidianità di un autista di autobus in due città esplorabili, negli USA o in Europa. Guida fino a 30 bus su licenza ufficiale di marchi internazionali, inclusi bus elettrici a due piani, porta a destinazione di due esageri con puntualità e insicurezza, da solo o in multigiodata, vabbè insomma, come dice il titolo stesso, è un simulatore di autobus. Vediamo quanto buono è stato fatto. Allora, Angel Shores, ad Angel Shores puoi vivere il sogno americano e costruire il tuo impero, partendo da una fermata fino a diventare il servizio di trasporti più gettonato, che siano gli imprenditori di Pecunia, industriali di Horace Arbor e di Timber Ridge, oppure le famiglie dirette ad Arnold Park, tutti vanno da qualche parte. Ricorda che per essere il miglior artista di bus sulla piazza dovresti... Aspetta. Dovresti sempre seguire queste regole. La maggior parte dei semafori si trova sul lato opposto dell'incrocio, perché siamo in America, ovviamente. Se sei in arrivo verso un semaforo rosso ti sarà sempre consentito svoltare a destra, perché in America è consentito, l'ho visto già su American Truck Simulator, scusate. Il pedone viene sempre prima di tutto, quindi... Occhi aperti. Ma beh, insomma, grazie. Poi c'è il Seed Valley, che sarà disponibile dopo aver giocato l'introduzione a Dungeon Shorts. Vabbè, andiamo a fare l'introduzione. Allora, seleziona la tua esperienza. Autista giornaliero, gioca per rilassarti, l'esperienza autentica, guida realistica, con alcune funzionalità di comodità, commissario riducibile. Facciamo questo, che è quello a quanto pare consigliato, il purista della guida. L'esperienza autentica, guida realistica, con alcune funzionalità di comodità. Prima di andarlo a vedere, mi raccomando un bel like, selezionare e iscrivetevi per supportare se è il canale. Partiamo subito. Perfetto, purista della guida. Nome dell'azienda, io metterei... Ma sì, Lino Baratto, SRL, che è sempre un grande master ormai. Lino Baratto, SRL, no, LL. Modalità di prova, disabilità, tutorial abilitato. Accetta. Start with tutorial. Puoi personalizzare ulteriormente le impostazioni durante il gioco. Vai, vadi maestro, vadi. Precaricamento, mappa. Non dimenticare di fare una breve pausa ogni tanto. Vabbè, siamo sul tastiera. Purtroppo non mi ha preso l'input del joypad. Quindi per adesso, come primo episodio, magari vedremo... Lo vedremo con la tastiera. Vediamo anche come è fatto. Oh, ci sono io, aspetta. Eccoci. Molto carino. Eh, sì. Chi non desidera proprio, non vedo l'ora di andare a prendere l'autobus. Sì, 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 assolutamente. Poi, eh... Allora, questo è il nostro personaggio, questa specie di... Questa è un tuo avviso. Salve. Salve. Ok. Dunque. Ok. Allora, abbiamo... Bene. Allora, Mercedes, posso essere 26, questo ne ha 29, questo ne ha... Oh, 51. Dunque, dunque. E ha capito, è quello che sto a fare. Ah, sì, due. Ma io vado con questo a 51, sì, abbiamo più... Abbiamo più... Più scelta, no? Abbiamo più clienti da... Da accogliere. Vai! Vai, ci sono! Certo, non è il massimo con la tastiera, però vabbè. Attiva lo zoom cabina. Ok. Con l'ingredimento attivo è più facile interagire con la cabina. Ok. Oh! Mazza! Eh, start the engine. Aspetta, eh, dov'è? Avviamento con la I. Via! L'ho avviato? Ah, l'ho avviato, sì. Giusto? Pronto? Questo gira, questo gira. Ma, eh... Ah, ok. Hai bisogno di una spinta, di una spinta. No, eh, le lights... Aspetta, le lights, luci passeggeri. Ma io accendo tutto, guarda. Luci passeggeri. Luci biglietteria. Luci cabina. Luci di seg... No, segnalazione no. Eh, claxon no. Luci cabina l'ho acceso. I semplici fari, per esempio, dove potrebbero essere? Porta 1, porta 2. Biglietteria è qua. Intergi cristalli, abbaglianti, luci di segnalazione, luci... Fari, fari, dei semplici fari. Accendi i fretti a L. Ok, c'è scritto da sopra. Perfetto. Fatto. Ok. Posso? Non va. Non parte, maestra. Signora? Non parte. Accendi i fretti. Intergisci con l'interatore. L'ho acceso i fretti. Ah, entrambi. Ok. Chiudi la porta interiore. Momento il giro con il comando del gabbino. Ok. Buon numero 1. Perfetto. Aspetta, levo il joy ball perché tanto... Non ci serve. Arrivati a questo punto. Rilascia il freno di stazionamento. P. Via. Passa il visuale in terza persona. F1 puoi anche visualizzare per cambiare. Ok, F1. Bello. Puoi anche visualizzare. No, ma io in realtà... Sì, sì. Secondo me così è più realistico, ragazzi. Come se... Ma no, no. Già mi... Mi sento abbastanza confidente. Prima di un acquisto fai un giro di prova dei veicoli nel piazzale del concessionario. Questo è un veicolo uscendo dal piazzale. Aspetta perché già ci stiamo per schiantare. Oh, piano! Vai, gira di qua. Sì, sì. Vai, compra, compra! Ok, ma dove devo andare? Qua sinistra, ok. Per la freccia? Faccio io? Ok, guida fino alla prima fermata. La linea è preparata, ok. Sì, grazie. Se possiamo andare avanti... Io metto la freccia, eh. Qua c'è qualcuno. Sì, via! Verso le al... Oh, scusi! Giri, giri, signora, giri. Quanto è lungo sta... Scusate, posso vederlo? Non è neanche così lungo in realtà. Allora. Ah, e ci rilassiamo. Certo, un po' di musica non sarebbe stata male come idea. È come sottofondo. Però, fermiamo. Allora, noi dobbiamo andare dritto. Siamo... Sono le 8.05 di mattina. Andiamo a un miglia orario. Non so se si potrà cambiare, magari poi lo vedrò. Fatemi sapere se volete sempre una serie. Volete vedere magari più episodi. Siamo ancora all'interno del tutorial, ovviamente. Noi dobbiamo andare dritto. Poi è verde. Questo mi passa davanti. Io mi tengo sulla destra, eh, perché... Nella teoria delle cose... La fermata dovrebbe stare qui sulla destra. Quindi, restiamo sulla corsia destra. Dobbiamo andare sempre dritto, noi. E, occhi ai semafori. Ogni infrazione qua sarà penalizzata. Eccola! Sì, 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 sì. Attiva... Abbassa l'autobus, interagisci. Vai, abbassa, vi... Eh, aspetti, vorrei... Ok, perfetto. Fatto. Eh, l'ho aperto, l'ho aperto, le porte? No? Apri e chiudi prima porta, vai. Welcome, everybody! È il biglietto, scusi. Il biglietto, signore! Ma non paga nessuno qua! Sì! È tutto. Eh, dunque, sarà meglio indicare che stiamo... È come la freccia, la freccia! Vabbè, niente freccia, andiamo a cazzo di canne, andiamo a cazzo di canne, come facciamo sempre. Certo, certo, amica mia, certo! Che ho fatto? No, ho aperto la porta! Non volevo! Scusi! Scusi! Chiudi, chiudi. Ho chiuso? Sì, perfetto. Quindi fino alla seconda fermata, la linea è preparata. Ok, io volevo cambiare solo... ...visuale. Grazie. Ma, scusate, ma su quest'autobus c'è nessuno che paga? Cioè, non c'è stato uno che ha pagato il biglietto? Allora, metto la freccia a sinistra, come i ciclisti faccio. Uh, esco il braccio. Allora, a livello di FPS non è messo benissimo, eh. Proprio non lo vedo molto fluido. È appena uscito il gioco, quindi... Eh, calla! Perfetto, hai colpito un ostacolo. Bene. 587 euro. Perfetto! Subito via! Volati! Che culo! Che fa? Si ferma? Metto la freccia! Vai! Giro! Di qua! Esco il braccio! Via! Piano! Pieni in pienino! È anche vero che... ...quella tastiera non è che sia proprio il massimo da controllare. Prendo la pozzangra così vado... ...a fare lo spersetto a qualcuno. Scusi, se si fa un po' più avanti, io faccio... No, ragazzi, la fermata è là. Non posso aprire di qua. Non posso aprire di qua. Oh! Mi accosto, eh. Mi accosto. Là! Ok. Eh, dunque, sì. Abbassiamo qua. Premi F1. Apri le porte. C'è qualcuno che deve scendere, eh? Ma sì, apriamo anche a seconda me. Che me frega a me. No, dall'altro lato dovrebbe scendere. Signora, qua è solo per salire. Oh, il passeggero blocca la porta. Oh, entra! Ma che stai a fare? Il passeggero blocca la porta, esce dalla cabina. Ma chi è che... Vabbè. Cioè, chi è che salirebbe mai su un autobus se sta davanti alla porta e ferma immobile? Chiudi le porte prima di partire. Il numero 6, perfetto. Vabbè. Cosa è strana, ragazzi. Cosa è strana che dobbiamo vedere. Guida fino alla terza fermata. Ma è rosso, però. È rosso, giusto? Giusto. Giusto, giusto, giusto. Ragione, ragione. Giusto, giusto. È ragionissimo, è ragionissimo. Sì, sì, a livello di FPS siamo messi molto male, ragazzi. Ma molto, molto male. Un attimino abbasso i dettagli. Che ne pensate? Provo. Provo, perché adesso so su ultra. Proviamo a metterli su alto. Molto alto. V-sync è off. Scari risoluzione, vabbè. Molto alto. Vediamo se migliora un po'. Perché non credo che non arrivino in ecco. Ecco, molto più fluido, dai. Molto più fluido. Dai, un'altra fermata. Oh, pure. Ah, che culo. Eh, sì. Sì. Dunque, chiudiamo qua. Apriamo qua. Inserisci il freno di stazionamento. Fiii. E stendi la rampa G. Ok, troppi tasti. Però ci sta a rossa. Dove sta la rampa? L'ho fatto? Ah, sta salendo. Sta salendo il maestro. No, l'ho chiusa. Scusi, io ho chiuso la porta in faccia. Non l'apra. Ah, no. Sisi. Posso chiudere? Abbiamo fatto tutto? Perfetto. Perfetto. Eh, enjoy the ride. Eh, sì. Scusi. La F, la G. Chiudiamo, ritiriamo qua la rampa. Andiamo a... Lo specchietto dice che è tutto libero. Guida fino alla quarta fermata. Della linea preparata. Ok. Prossima fermata. City Hall North. Dobbiamo girare qua a destra, eh. Molta calma. Certo, la città non è fatta malissimo. C'è poco traffico, c'è da dire. Noi dobbiamo andare dritto. Qua siamo a Chinatown. Bellissimo. Seafood restaurants. Bello. E' un po' da... Migliorare l'ottimizzazione del titolo. Perché vedete che... Oh, no. Ah. Eh, eccetto. Quello che sto dicendogli da un'ora. Ma che fa? Biglietti non ne paga nessuno. Vediamo qua, va. Attenti. Che ho sbattuto? Aspetti. Aspetti. Usi l'indicatore di svolta. Ah, Q e D le frecce. Ah, perfetto. Ok, mettiamo la E. Perfetto. Ok, allora. Dobbiamo premere. Abbiamo detto la V. Apriamo le porte con il 6. Il perfetto orario. Eh beh. Che culo. Salve. Niente. Non paga. Lei paga? Non paga. Paga lei? Alleluia. Allora, un passaggio chiede un biglietto. Attiva la modalità biglietti. Left control. Interregisci una biglietteria. Vabbè. Left control. Ok. Che vuole la signora? Eh, ma che biglietto chiede? Ordinario? Biglietto richiesto. Biglietto ordinario. Durato. Ok. Biglietto ordinario. Biglietto giornaliero. Numero 1. Stampa. Eh, i soldi. Ho ricevuto 10. Costo biglietti 6 e 20. Il resto tutto 3,80. Mazza, pure il resto devo dare? Allora, 3,80. 1, 3,50. 70 e 80. Via, dai. Mazza, sono troppo forte. Vai. Eh, di sentire la modalità della biglietta. Perfetto. Abbiamo fatto tutto? Tutti i saliti? Tutto a posto? Quello con la garazzina è sceso? No, non ho attivato la rampa. Vabbè, posso scendere al volo volendo. Ok. Vediamo qua. Ok. Mi rimetto sulla gareggiata. Aspetta che c'è una macchina. Eh, sì, sì. Il coso qua. V. 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 E si riparte. Via. Sulle ali dell'entusiasmo. Sì. Sì. Ma perché ho acceso... Ho acceso i cosi. I tergicristalli. Ah, scusi. Ma qua c'è una panelità per tutto, ragazzi. È verde, vai, vai. È verde. Eh, rimettiamo un attimo qua. Vabbè, inutile. Mettiamolo per ripassare. Vede fino alla quinta. Fermata. Allora. Allora. That's the last stop for today. Thank you. Ho messo la freccia, però. Hope to see you again soon. Eh, sì, sì. Non vedo l'ora. Arrivederci. Eh, sì. Un attimo. Un attimo. Mamma mia. Un attimo. Sì, c'è il freno. Eh, con la P. Il freno. Il freno è con la P. Fatto? Tutti fatti? Tutti scesi? Ok. Via. Ok. P. Lo chiamo il freno. Eh, ci rimettiamo sulla strada. Con il Q. Avete capito? Sì, ho messo la freccia. Perfetto. Ho capito tutto. Freccia a sinistra durante... Eh, l'ho messa. Ah, vedi? Infatti me l'ha dato come bonus. Bravo, bravo. Eh, vorrei staccare i tergicristalli. Se fosse possibile. Nella l'ora è possibile. Ok. Ma è dove... Ah, viaggio libero. Vabbè, basta. Io direi che col tutorial abbiamo capito un po' tutto il funzionamento. Abbiamo visto la città. Questa è la zona un po' più povera. A giudicare dallo stato in cui versa la strada. Non è male, ragazzi. Ah! Dicevo, non è male. È molto carino. Essendo anche appena uscito... È... Secondo me è un netto miglioramento rispetto... Al primo Bus Simulator. Ne riprende alcune meccaniche. Vabbè, io uscirei. Giusto? Torno nel menu principale. Credo che possiamo andare a provare adesso il gioco vero e proprio. Continua. Nuova partita. No, niente. Ancora è bloccato. Perfetto. Buongiorno! Sì, non vedo l'ora! Ho già preparato la nostra prima officiale ruta. I residenti di Angel Shores sono sicuri di vedere il nostro nuovo bus. Eh! Ha detto che ha preparato la nuova rotta e i residenti non vedono l'ora di vedere il bus. Non sta! Ah! Ma non è questo il mio autobus? Scusi, signora! Era verde! Era verdino! Ma che è? Non è una Mercedes! A tenere del tuo bus. Sali a bordo del bus. Sì, signora! Vabbè, salve. Che fate? Levi? Grazie! No, ma che me frega! Levate! Salve! Che fasi levate le palle! Sì, sì, ciao! Ok, perché la linea è quella che ho imparato ieri. Sì, sì! Ah, ma qua i comandi sono diversi, però. Ok. Chiudi le porte. Ah, certo, già stiamo partendo con le porte aperte. Partiamo subito malissimo. Però bello, vedete anche i diversi modelli di autobus con tutti i comandi diversi. Eh, che devo fare? L'ho chiuso le porte? Oh, ma le chiudi o no, queste porte? Apri, chiudi, seconda porta. E' levata, no! E che palle, tre ore per scendere, startro. Apri, chiudi. Oh, qua, chiudi tutte le porte. Eh, finalmente. Posso partire? Non dipendicare l'abbassamento. Oh. Salve! Che fasi... Eh, vabbè, pure questo. Con calma, eh! Prendetevi il vostro tempo, non si preoccupi. Come si fa il clacson? Come si fa che gli spara una clacsonata che... Senti, via. Ok, a destra devo andare. Scusate, eh, io non è che ho tutta la giornata. Io lavoro. Eh, mica non faccio nulla come puoi. Allora, ricerca... Ma perché è sorto? Ricerca principale, percorri la linea preparata, percorri la linea 1. Oh! Ecco, perfetto. Stiamo già andando nella direzione sbagliata. Ha lasciato... Ah! Scusi! Scusate! Ma... Stavo guardando la mappa. Aspetti, mi vengo a prendere. Un attimo, ragazzi, eh. Un po' di pazienza. Un attimo. Un attimino. Stiamo andando male. Malissimo. Un inizio shock. Eh, c'è pure quello con la carrozzina. Dai, ma come faccio a lasciarle indietro? Aspetti, rifaccio il giro, eh. Rifaccio il giro. Scusate. Aspettate. Non è successo nulla. Un piccolo errore di... Ok. Perfetto. Non è successo assolutamente nulla. Io do' andare di qua, giusto? Sì. Scusate. Un attimo. Non sono briago, eh. Ok. Dove stanno i passeggeri? Ma non c'è più nessuno. Si sono offesi. Ehm... Vabbè. Non c'è nessuno. Ok. Si sono offesi. Perfetto. Abbiamo saltato una fermata. Ottimo. Qua una bella spozzangherata. Perché questo è... Ah, è verde. Adesso vai. Vediamo sulle linee. Vediamo sulle linee. Otterrai punti di esperienza utilizzata per guadagnaristica. Ok. Chiudiamo. Qua a sinistra. Abbiamo messo la freccia. Perfetto. Gira di qui. Ma non è vero. Non era rosso. Ma dov'è che era rosso? Scusate. No! Ma porca... Mi sono schiantato su una palma. Mi sono schiantato. Olibus. Vabbè. E con la tastiera, ragazzi. È difficile, eh. Ok. Frena, va. Allora. Rimettiamo qui. Adesso. E dunque. Fre. Fre. Fermati. Fermati. Allora. Freno motore. B. No. B. P. P era il freno. Perfetto. Abbassati. V. Poi. Apri tutte le porte. Ok. Siamo già ritardissimi. Abbiamo già fatto un macello. Stanno entrando tutti. Il passeggero ascolta musica a tutto volume. Eh. Ebbè. Meglio. Almeno sentiamo un po' di musica, no? Vabbè. Eh. Tutti entrati? Perfetto. Ok. Andiamo. Ragazzi. Si parte? Partenza? Eh. Dunque. V. Eh. Basta. Si parte. Metto. Rimetto la freccia. Sto ripartendo. No. Il freno. Giustamente. Il freno. V. V. E via. Sì. Con il joypad sarebbe meglio. Qualora registrassimo un altro video. Hai orto del marciapiede. Vabbè. Orto del marciapiede. Che sarà mai? Oh. Mamma mia. Non fa niente. 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 Ho messo la freccia. No. L'ho tolta. Mamma mia. Che ignoranza. Quindi sentiamo anche i discorsi dei passeggeri. Salta su. Percorri la linea 1. Ok. Quello che stiamo facendo. Non con grande successo. Questo è il nostro primo incarico ufficiale. Se vogliamo. Ok. Aspetta. Ok. Beh. Più o meno. Beh. Ci siamo. Ok. Dunque. Questo. Poi apriamo tutte le porte. Salve. Biglietti. Niente. Ah. Oh. Alleluia. Chiedi un biglietto. Grazie. Che desidera. Dunque. Biglietti anziani. Va contannare. Sicuro che anziano. Corsa singola. Uno. Uno. Otto e venti. Resto d'uso. Due. Quattro. Sei. Otto. E venti. Perfetto. Arrivederci. Non so che cosa ha detto. Non la stavo neanche ascoltando di striscio. Però va bene. Esci dalla biglietteria. Ok. Tutti saliti tutto a posto. Ok. Tutto a posto. Andiamo. Ecco. Per il prossimo potrei montare il volante. Effettivamente forse è un'idea migliore. Sì. 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 Assolutamente. Guarda. Proviamo a godercela da questa visuale stavolta. Sembra che un passaggio si sia addormentato. Non dimenticate. Ma che me frega a me. Ma che? Ma che do fa pure il babysitter. Sì. Si è addormentato. Che cavolo me frega a me. Scusi. Eccoci arrivati. Fermata. E poi si sveglia no? Dunque. Vai. Eh. See you soon. Bye. Thank you. Salve. Lei deve salire? No. Sta salendo. Stanno salendo da dietro. Ok. Perfetto. Grazie ragazzi. Via. E si parte. Estendi la rampa. Che ho lasciato uno indietro. Ma non c'era nessun disabile. E lasciato indietro le persone. Oh ma senti. Ma se ci stanno sei anni a salire questi. Ma io che ci posso fare? Io ho fretta. Non è che posso stare. Eh. Oh no. Ragazzi. Eh. Sono stato un quarto d'ora. Guardate che butto sotto eh. Tanto ormai è l'ultima cosa che ci manca. Guarda io giro qua a sinistra eh. Io giro. Di qua non c'è nessuno. Di qua è tutto libero. E' libero qui? Sì. Comunque secondo me non c'era nessuno. Non ce lo sta a fare apposta. Metto la freccia anche qua. Vado eh. Vado. Ma aspetta. Mi confondo. Oh. Grazie a Dio che ho managed to catch the bus. Oh. E che ne so io? E se non lo sa lei signora. Eh. A me me lo chiede se l'autobus è giusto. O cosa la pazza? E dunque. Apri tutte le porte. Perfetto. Eh. Entro. Guarda hanno pure la mascherina. Proprio. Eh. Adattato ai tempi moderni. Signora. Biglietto. No niente. La mascherina. Tanto è una ladra. Non viene riconosciuta. Vabbè. Eh. Va tutto a posto. Deve salire qualcuno. Eh. Poi si lamentano che ho lasciato i passaggi. Perfetto. Via. Chiudi le porte. Eh l'ho chiuse. Ah l'abbassamento. Sì. Aspetta zitto. Mamma mia. Devo avere pure i. I gufi dietro che mi parlano. Ha detto che è pericoloso. Girare senza mettere la freggia. Ma. Fatti cazzi tu. Guarda il paesaggio. Ma che te ne frega. Mamma mia. Dovevo sentire pure. Gli iettatori qua. Certo. È vero che non abbiamo proprio uno siri di guida convenzionale. Eh. Quella rosso forse. Sai. No. Era rosso forse per quelli. Ma che ne so. Non sai che pisciano la mazza qua. Così. Semafori. Americani. 33 migli orari. Stiamo andando un po' troppo veloci. Forse. Qual è il limite? Please leave the bus. Via. Apri e chiudi. Via. Grazie signora per aver pagato il biglietto. Eh. Sì. Dov'è? Ha raggiunto il capolini. Io ti sti. Io ti gestisco questo video con l'efficienza. Bah. Due stelle e mezzo. Insomma. Un po' una merda. Se vogliamo. È sbloccata una fermata. Oh. Capello. Allora. Due stelle di sosta. Allora. Qua tutti gli eventi che sono accaduti. Le cose che abbiamo fatto bene. Le cose che abbiamo fatto male. Dunque. Il bilanciamento si vede di 7612. Meno 2000 di meno attenzione bus. Meno 805 gli stipendi. Potete essere fermata. Comunque abbiamo guadagnato ben 4807 e 73. 6 terzi. Diciamo. Perché non riconosco questa valuta. Apri statistiche complete. Seleziono la linea. Qua c'è. Qua avete tutte le varie statistiche. Insomma. È fatto molto. Molto bene. Molto profondo. Deve essere un attimino. Ottimizzato un po' meglio. Ok. Possiamo uscire. Grazie. Grazie. E quindi ragazzi. Mettiamo pausa. Siamo già quasi una mezz'oretta di registrazione. Mi raccomando. Fatemi sapere la vostra. Se volete vedere altri episodi. Possiamo andare anche a scoprire la mappa europea. Qualora lo vogliate. Sembra un bel commento. Un like. Un like. Un'iscrizione. Per sopportare la serie del canale. Io da grande autista di autobus. Quelle sono. Vi saluto. E vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo domani con dei nuovi fantastici video. Ciao. Ciao.